a chiappa fantasmi in cioceria fa caldo il peggio deve ancora arrivare paga o tuo figlio va in carcere ben trovati al tg all'uscita del casello dell'autostrada di cassino la polizia stradale ha fermato un carro attrezzi che trasportava una cadillac miller meteor del 1959 come quella usata nei film ghostbuster un trasporto irregolare perché non si trattava di un'attività di soccorso ma conto terzi multa di 4560 euro ritiro patente al conducente fermo per tre mesi del carro attrezzi e sequestro dell'auto degli acchiappa fantasmi venerdì 9 e sabato 10 agosto bollino rosso a forosinone che ancora tra i capoluoghi di provincia più caldi d'italia insieme a roma latina rieti brescia campobasso palermo e perugia temperature massime che potrebbero toccare i 38 gradi e dopo ferragosto sette giorni di fuoco in cui si potrebbero anche superare i 40 gradi paga o tuo figlio va in carcere l'anziana donna ci casca e l'ennesima truffa si consuma ma la polizia stradale ferma nel tratto sciociaro dell'autostrada una peggio con a bordo i due truffatori due pregiudicati reduci dall'impresa in provincia di alessandria con la tecnica del finto incidente stradale della necessità di una cauzione per evitare l'arresto e il carcere bottino di circa 12 mila euro tra contanti e gioielli i carabinieri arrestano i rapinatori fuggiti dopo essere rimasti bloccati tra le due porte di sicurezza della filiale di isola dell'iri della banca popolare del frusinate prima di entrarvi si tratta di due romani di 56 e 37 anni che avevano il volto travisato da due maschere e indossavano due cappelli fedeli della parrocchia di sant'antonio a cassino truffati da un'agenzia di viaggi salta la vacanza a new york per oltre 50 persone la parrocchia risarcirà i malcapitati per il viaggio fantasma e intanto asporto denuncia un diacono della medesima parrocchia ha detto la messa all'urde prima di venire ordinato sacerdote poi si è pentito e si è autodenunciato al vescovo che ne ha posticipato l'ordinazione un diciannoenne e un diciottenne di frosinone denunciati per procurato allarme a sabaudia il primo ha chiamato i carabinieri per segnalare il rapimento del secondo ma i militi li hanno trovati insieme che scappavano dopo aver fatto un gavettone a un minorenne in monopattino un uomo di 40 anni uscito fuori strada con uno scutero in località mastrazze a monte san giovanni ed è stato ritrasportato in codice rosso all'ospedale san camillo di roma a risentirci alla prossima edizione ciò che sono messi in palco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti